Il tempo della mela è arrivato. Tra poche ore, dalla sua sede di Cupertino, Apple dovrebbe togliere il velo ai nuovi iPhone. Plurale d'obbligo perché, come documentano le tante immagini affiorate in rete, l'azienda avrebbe finalmente deciso, con buona pace del compianto Steve Jobs, di diversificare l'offerta. Si parte con il 5S, l'ultima incarnazione del suo smartphone di bandiera. Oltre ai classici potenziamenti di processore e videocamera, il dispositivo sarà dotato di un lettore di impronte digitali e sarà disponibile anche in un inedito color champagne. La vera novità però sarebbe costituita dal 5C, una versione low cost in plastica pensata per invadere la fascia media del mercato. Ma per cosa sta la C? Secondo alcuni sta per Color, sarà disponibile in tanti colori, per altri invece sta per China, creato cioè per il mercato asiatico.